In questo inverno lo smaltimento dei rifiuti in discarica è divenuto tema di accesa controversia politico-amministrativa fra la Regione Marche e in particolare l'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi e l'Assemblea Territoriale d'Ambito Provinciale che gestisce i conferimenti di scarica. Due settimane fa la Regione ha infatti bocciato il piano dei rifiuti provinciale dove, secondo Aguzzi, si è registrato una forte difformità rispetto alle direttive del piano regionale. In particolare ci si riferisce alla quantità di scarti industriali non pericolosi trasferiti nelle discariche di Casprete di Tavuglia e Monte Schiantello di Fano. Secondo il piano regionale questi scarti non dovrebbero superare il 50% dei rifiuti urbani mentre l'analisi della Regione ne ha rilevato cifre superiore al 150% di cui il 60-70% di rifiuti provenienti da fuori Regione. Una gestione sulla quale Aguzzi si è contrapposta a Giuseppe Paolini che oltre a essere Presidente della Provincia è Presidente della stessa ATA, organo controllore delle discariche. Dopo assemblee dei sindaci e minacci di ricorsi al TAR lo scontro fra provincia e Regione negli ultimi giorni si è ammorbidito alla ricerca di un punto di incontro. Ora si lavora ad una mediazione all'apporto di modifiche per un piano provinciale dei rifiuti condiviso sostenibile e compatibile alle linee della programmazione regionale.